benessi signori siamo nella gara più pazza del mondo frank macchina gialla elias macchina gialla e rossa siamo pronti alla gara il primo che arriva in fondo farete il percorso prima che questo è il percorso primo che arriva in fondo vince 3 2 1 via questa è la battaglia a posta perché è un bastardo mirian allora non vinto fuori mirian ce l'ho vinto io oh questo è sorpasso no aspetta l'altro sorpasso quasi vinto lì no non ti faccio girare ma non vale ero messi con me lì oh è riuscita da tutte oh incidente il mio ragazzo non ce la faccio dai un colpetto è per te che io si è per forza ora fai un numero oh oh ciao ragazzi ciao 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 ciao